Il dramma del coronavirus nelle residenze per anziani adesso ha contorni più chiari. Quasi un terzo delle persone che hanno perso la vita a causa del covid-19 in Toscana erano ospiti di una RSA. Una parte di loro è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Tra chi viveva nelle strutture che si trovano nel territorio della ASL Toscana Centro, i decessi sono stati 161. Nella ASL Toscana Nord-Ovest il dato è 115, nella Sud-Est 45. Il totale quindi di 321 su 1.027. Le positività al coronavirus sono state invece 1.114 su 16.000 ospiti di 322 strutture. I numeri sui decessi e sulle infezioni purtroppo non sono ancora definitivi, anche se nelle ultime settimane la situazione all'interno di quasi tutte le RSA colpite dal virus è in netto miglioramento. La regione è intervenuta con il piano di testa a tappeto a partire dalla fine di marzo. Altra mossa considerata fondamentale per contenere il contagio è stata quella di spostare gli ospiti positivi dalle residenze che non erano in grado di disporre l'isolamento. A decine sono stati trasferiti nelle strutture di cura intermedie delle aziende sanitarie. Intanto squadre di medici e infermieri entravano nelle RSA per valutare la situazione delle persone malate, dove la gestione sembrata manchevole è scattato al commissariamento. È successo per ora in una decina di casi. Infine in altri si è deciso di chiamare in causa le procure.